La bellissima storia di Heidi Heidi arriva nel villaggio ai piedi dei monti insieme alla zia Dete. Quest'ultima la sta accompagnando sulla montagna alla baita del nonno, chiamato da tutti Vecchio dell'Alpe. Il nonno non è affatto contento di doversi occupare della nipote, ma è subito colpito dall'entusiasmo di Heidi e aiuta la bambina a sistemarsi nella casa. Heidi si adatta ben presto alla sua nuova vita e il burbero nonno si affeziona molto a questa bambina vivace dall'allegria contagiosa. Heidi conosce gli animali di casa, il cane nebbia e le caprette e il suo nuovo amico, il pastorello Peter, con cui trascorre molto tempo, d'estate e i pascoli ed inverno a giocare nella neve. Il carattere gioioso e generoso di Heidi cambia profondamente quello chiuso e scontroso del nonno, che miracolosamente ricomincia a parlare con gli abitanti del posto. Il Vecchio dell'Alpe, infatti, aiuta la famiglia di Peter aggiustando la casa pericolante della nonna cieca. Heidi è affezionata alla vecchina e spesso le tiene compagnia. Zia Dete, intanto, ha trovato lavoro presso la famiglia Seseman a Francoforte e porta Heidi con sé. Qui Heidi conosce Clara, la figlia del signor Seseman, che non può camminare a causa di una malattia. Nella casa vive anche l'arcigna governante, la signorina Rottermeier, che sgrida spesso Heidi perché è troppo vivace e indisciplinata. Heidi e Clara diventano grandi amiche. Heidi porta una ventata di allegria e di calore in quella casa, in cui Clara, fino ad allora, si era sentita triste e sola. Ma Heidi sente nostalgia del nonno e della montagna. Heidi si ammala e il dottore della famiglia Seseman consiglia che la bambina torni alle sue amate montagne. Heidi è felice di tornare a casa dal nonno, ma è triste perché deve lasciare Clara. Quest'ultima, però, le promette che andrà a trovarla presto. E perciò, quando il medico consiglia a Clara una vacanza per la sua salute, sorpresa, Heidi può riabbracciare la sua amica. Clara, Heidi e Peter trascorrono molto tempo insieme e organizzano delle gite nei prati. Heidi e il nonno capiscono che Clara sta molto meglio e la aiutano a rinforzare le gambe. Grazie all'aria sana di montagna, all'affetto degli amici e alla perseveranza, Clara riuscirà di nuovo a camminare. Fine La bellissima storia di Heidi Heidi arriva nel villaggio ai piedi dei monti, insieme alla zia Dete. Quest'ultima la sta accompagnando sulla montagna, alla baita del nonno, chiamato da tutti Vecchio dell'Alpe. Il nonno non è affatto contento di doversi occupare della nipote, ma è subito colpito dall'entusiasmo di Heidi e aiuta la bambina a sistemarsi nella casa. Heidi si adatta ben presto alla sua nuova vita e il burbero nonno si affeziona molto a questa bambina vivace dall'allegria contagiosa. Heidi conosce gli animali di casa, il cane nebbia e le caprette e il suo nuovo amico, il pastorello Peter, con cui trascorre molto tempo, d'estate e i pascoli ed inverno a giocare nella neve. Il carattere gioioso e generoso di Heidi cambia profondamente quello chiuso e scontroso del nonno, che miracolosamente ricomincia a parlare con gli abitanti del posto. Il Vecchio dell'Alpe, infatti, aiuta la famiglia di Peter aggiustando la casa pericolante della nonna cieca. Heidi è affezionata alla vecchina e spesso le tiene compagnia. Zia Dete, intanto, ha trovato lavoro presso la famiglia Seseman a Francoforte e porta Heidi con sé. Qui Heidi conosce Clara, la figlia del signor Seseman, che non può camminare a causa di una malattia. Nella casa vive anche l'arcigna governante, la signorina Rottermeier, che sgrida spesso Heidi perché è troppo vivace e indisciplinata. Heidi e Clara diventano grandi amiche. Heidi porta una ventata di allegria e di calore in quella casa, in cui Clara, fino ad allora, si era sentita triste e sola. Ma Heidi sente nostalgia del nonno e della montagna. Heidi si ammala e il dottore della famiglia Seseman consiglia che la bambina torni alle sue amate montagne. Heidi è felice di tornare a casa dal nonno, ma è triste perché deve lasciare Clara. Quest'ultima, però, le promette che andrà a trovarla presto. E perciò, quando il medico consiglia a Clara una vacanza per la sua salute, sorpresa, Heidi può riabbracciare la sua amica. Clara, Heidi e Peter trascorrono molto tempo insieme e organizzano delle gite nei prati. Heidi e il nonno capiscono che Clara sta molto meglio e l'aiutano a rinforzare le gambe. Grazie all'aria sana di montagna, all'affetto degli amici e alla perseveranza, Clara riuscirà di nuovo a camminare. Fine